Stamane per il secondo giorno consecutivo la frazione organica non è stata raccolta dagli operai della Sangalli ad Andria. Situazione sempre più delicata in città per quel che riguarda la questione rifiuti. E a destare, maggiore preoccupazione al momento è il totale silenzio degli enti preposti tra cui l'amministrazione commissariale del comune di Andria e l'Aro BT2. Nessuna comunicazione, nessun avviso di disservizio e soprattutto nessuna notizia di quando lo stesso dovrebbe essere ripristinato. Il dato di fatto è che i mezzi della raccolta organica della Sangalli sono fermi e stracolmi di rifiuti organici e la maggior parte delle abitazioni ancora con i bidoni pieni. L'ipotesi più accreditata anche in considerazione dei precedenti è che i mezzi della ditta incaricata della raccolta porta a porta non abbiano scaricato nelle piattaforme assegnati per problemi di natura economica. Resta ancora chiusa l'isola ecologica, luogo in cui vengono conferiti i rifiuti ingombranti. Ormai è passata quasi una settimana, ma anche della struttura di Via Stazio non si hanno notizie se non l'impossibilità di svuotarla a causa di un debito da oltre 100.000 euro che non è ancora stato saldato. Nel frattempo monta la protesta dei cittadini che per sbarazzarsi dell'umido lo conferiscono nell'indifferenziato, creando ulteriori disagi. Una situazione che si aggrava di ora in ora.